luciano partiamo dalla vittoria intanto per il secondo anno ci siamo giudicati questa regola artista non risultato comunque clamoroso no fatto sì ufficiale va bene complimenti a noi primo oggettivo ha raggiunto adesso abbiamo quello che volevamo iniziare i playoff da in casa nostra quindi niente siamo molto contenti però ancora ci abbiamo due gradini da da superare in settimana quindi dobbiamo metterci subito la testa che mercoledì sarà molto difficile e dobbiamo fare risultato mentre la tassi è così due cose volanti la prima su mercoledì partita fondamentale per noi beh abbiamo la traverete la pressione di vincere da tre o vince in realtà ma sarà difficile loro giocano molto bene noi stiamo attraversando un momento buono ma siamo anche la fine alla fine dell'anno dall'inizio di un'altra un'altra parte stagione quindi dobbiamo stare attenti dobbiamo fare il nostro massimo sempre sicuramente sono convinto che potremmo portare a casa il risultato l'ultima cosa volante come stai sei uscito nel quarto set tutto a posto un po' di crampi niente di niche bene grazie Luciano